Siamo l'unica sala ormai che resta cinematografica e teatrale in tutta la zona di Barriera. La nuova stagione 2015-2016 è una stagione che nonostante le difficoltà che il settore cinematografico e teatrale sta attraversando in questo momento è ancora riproposta anche per questa stagione. Quindi cerchiamo di essere vicini alla gente della nostra circoscrizione con delle proposte che possono servire sia da un punto di vista culturale sia come momento aggregativo. I nostri cartelloni sono molto vari, cercano appunto di venire incontro un po' alle varie fasce di età della popolazione non solo di questa zona della città di Torino, siamo nella periferia nord, ma di tutta la città stessa e anche dalla provincia che sono i nostri abituali clienti che ci frequentano. I cartelloni che noi proponiamo sono un ricco cartellone di teatro in lingua piemontese, siamo tra l'altro l'unica sala a livello regionale che presenta una stagione di teatro piemontese così articolata. Sono dieci appuntamenti che andranno da novembre a maggio, compagnie che provengono da tutto il territorio regionale con spettacoli che si alternano alla sera del sabato e alla domenica nel pomeriggio.